Menelao Sece, a Palazzo San Francesco a Domodossola, quali le tue fonti di ispirazione? La vita, per la mia vita è la maggior fonte di ispirazione e l'amore. Quante tele sono esposte? 50 tele. E che cosa rappresentano? Tutta la mia vita è una tragetoria, in realtà è una esposizione che ha un mio vari anni di lavoro. Cosa ti piace di Domodossola? La pazza.